Benvenuti a tutti quanti, ci rendiamo conto anche della giornata che è un po' difficile, insomma che di certo non ci ha dato una mano per alcuni fratelli, per alcuni compari, per cui tante persone non sono potute venire. In pratica questo festival è una tradizione dell'associazione 3 febbraio, e deve essere una tavola rotonda, che è soltanto l'ultimo minuto, l'ultimamente, Luca di Gobas, che ci ha telefonato che ci sta male, non può venire, che è di scusa e mi manda anche salute a tutti quanti, e presento anche Luisa e Paolo di Nadir, o Arcoiris, e presento anche Antonio dell'associazione 3 febbraio, insomma questa iniziativa, insomma cerchiamo di, appunto dicevo che è una tradizione dell'associazione 3 febbraio, che insomma anche a quali siamo qua, non è quello il problema, però ci fa anche riflettere a noi, tutti quanti, sia, per me, sia in due lati, la presenza ci fa riflettere, perché, insomma, pensando al contesto nazionale, contesto internazionale, che non è abbastanza, insomma, semplice, è abbastanza difficile, quindi iniziamo subito senza prolungarsi, insomma, la discussione, e poi alla fine, è chiaro, poi il dibattito si sarà dopo, è chiaro che siamo, il momento appunto, cerchiamo di, eh, di discuterci liberamente, eh, che, noto, quindi è nota personale, quindi non è, non ci sono tante occasioni, veramente, in cui si può discutere liberamente, in cui l'immigrato, in cui l'italiano, in cui tutte le persone possono parlare liberamente, senza delica, senza predugizio, senza ordine o delica, quindi, questo è un punto, in cui, eh, secondo me, scelgo a me anche, eh, approfittarlo del senso del parole, quindi un'occasione non è che si ripete tutti i giorni, e, cerchiamo di iniziare subito, magari, eh, e di parte solo. Sì. No, io prima di tutto volevo ringraziare, assolutamente, Arco Iris, che finora, per l'aiuto generale alla preparazione di questo, di questo festival, e anche per il supporto, eh, video che ci ha dato finora, è stato anche molto, molto appassionante, anche, in particolare, l'ultimo video che avevo già visto prima, mi faceva riflettere su tutta una serie di cose, è molto efficace, oltretutto. No, io pensavo, pensando a questo festival, a questa, a questa iniziativa, mi veniva in mente una frase che, oltretutto, introduceva proprio l'ultima news che noi abbiamo pubblicato, che un po' ripercorre, non solo la mia storia, ma anche la storia un po' dell'associazione 3 febbraio. Questo, eh, quest'articolo aveva scritto Claudio Livieri, che è il compagno dell'associazione 3 febbraio che sta a Milano, e iniziava così, con questa, con questa domanda, cosa succede nella vita di migliaia di immigrati in questi mesi? Eh, l'articolo era uscito subito dopo, subito dopo l'estate, un'estate anche difficile, veramente difficile, mh, anche a pensare al quadro internazionale. Ovviamente non si può pensare di dare una risposta a questa domanda partendo da quello che i giornali ci dicono, sicuramente. Noi cerchiamo anche nella vita, anche nell'impegno quotidiano, di conoscere, di relazionarci, anche i fratelli, pensiamo a un'associazione, poi ci tornerò, dove i fratelli possano essere protagonisti, anche per imparare a conoscerci meglio. Milioni di persone nel mondo continuano a spostarsi nella ricerca di una vita migliore, questo è ormai un fatto, un dato di fatto, e milioni di tante persone, da tante parti del mondo, vengono anche verso questo paese. Si intrecciano un po' in questo movimento verso il nord del mondo e verso anche l'Italia, elementi negativi che riguardano veramente la barbarie di questo sistema, le cose più negative, più brutte, ma anche uno spirito positivo, una ricerca, una speranza di una vita migliore, che è uno spirito positivo rintracciabile, secondo me, in fondo anche nell'umanità. Per questo è importante anche cogliere un po' le novità che ci sono in questi anni, che ci sono stati in questi ultimi mesi. Quella, a proposito di quest'estate, mi viene in mente un pensiero, ma non solo un pensiero, a che cosa è stata la guerra in Libano mossa da Israele e se Israele non è riuscita a vincere quella guerra, secondo me è grazie anche all'esperanza di cui parlavo prima, alla voglia di difendere la propria terra del popolo libanese. Ma questo a me e non solo a me ci fa riflettere su alcune... cioè ci dà coraggio, a me dà coraggio pensare anche a questa forte identità che ha in qualche modo dimostrato il popolo libanese. In altre parti del mondo purtroppo il quadro è complicato, è difficile, se guardo all'Afghanistan ancora continuano le ondate di violenza, dopo tanti anni che si sono... ormai che esiste un esercito di occupazione in quel paese e dopo tante parole che si sono sprecate da parte dell'ONU e della Nato rispetto alla ricostruzione di questo paese. Anche quest'estate c'è stata una nuova ondata. In Iraq le truppe di occupazione da una parte, organizzazioni terroriste dall'altra, alcune bande armate continuano a provocare morte quotidianamente e purtroppo se c'è una cappa oscura che ormai chiude non si racconta più, non si dice più. A parte ovviamente invece dice ogni tanto le dichiarazioni del governo USA che proprio oggi diceva, riferito all'Iraq ma più in generale che Al Qaeda è come Hitler e per quello va sconfitto, altrimenti una terza guerra mondiale. Questo è quello che i potenti e la terra ci dicono. Però io non voglio fare un elenco della barbarie veramente di questo sistema ma è continuare a parlare di tragedie che veramente in ogni angolo di questo pianeta continuano imperterrite. Ma pensare a queste vicende secondo me ci può fare riflettere, ci può far pensare a un aspetto e secondo me è un aspetto fondamentale per noi anche per la costituzione stessa della nostra associazione che è la solidarietà. C'è chi con... per quale motivo? Perché io penso che non dobbiamo pensare solo a tanti fratelli che sono in questi paesi colpiti da drammi indicibili solo come vittime, ma come possibili protagonisti, così come i protagonisti sono tanti fratelli che già sono qui, che vengono anche da questi paesi, che hanno conosciuto situazioni molto molto complicate, sono partiti per viaggi drammatici, sono partiti da paesi dove si trova una situazione drammatica, ma la solidarietà va anche verso, appunto dicevo, tanti che sono qui, che per esempio dopo l'11 settembre abbiamo anche iniziato a in qualche modo conoscere nuovamente, riconoscere nuovamente, che soffrono ogni giorno la situazione attuale che purtroppo per paura di ulteriori repressioni scelgono anche di non parlare, scelgono di vivere così come il sistema, come il governo in questo paese gli chiede, di lavorare, di ritornare a casa, di stare in silenzio. Tanti che sono partiti, che sono arrivati in questi anni si trovano ingabbiati in un circuito che è di precarietà, di difficoltà, di sfruttamento, quasi senza fine. Per questo noi stiamo pensando all'Associazione 3 febbraio come un'associazione che possa essere un riferimento stabile per l'accoglienza, per la difesa, per la solidarietà per tutti. Un riferimento stabile però dove ognuno di voi, dove ogni italiano antirabianco, antirazzista, ogni fratello e sorella di ogni parte del mondo possa sentirsi protagonista e noi di questo abbiamo un bisogno vitale, direi, importante. Faisel parlava della riflessione anche sulla situazione, difficile situazione che tanti fratelli e sorelle stanno vivendo in questo momento. Anche ci stanno un po' obbligando a stare in silenzio, un po' obbligando a non alzare la testa perché bisogna essere, bisogna integrarsi. Purtroppo l'integrazione è un po' obbligando. Passatemi il termine a bufa, è una presa in giro, ne avevamo parlato anche, qualcuno di voi c'era, l'ultima festa che abbiamo fatto a febbraio in occasione dei 10 anni della nostra associazione. Sono 10 anni che siamo impegnati in questo. Il governo, da altra parte, il governo italiano, a differenza di quello precedente, sta creando più illusioni, sta creando grandissime illusioni, direi. Per esempio hanno iniziato a parlare di alcune misure sulla cittadinanza che riguardano realmente una parte importante degli immigrati e delle immigrate che sono presenti in questo Paese, ma non basta, non è sufficiente. Ha raccontato prima delle elezioni che in qualche modo si sarebbe interessato del problema di immigrazione, però in realtà cosa stanno proponendo? Non stanno proponendo sostanzialmente niente, hanno aggiunto al vecchio decreto dei flussi che riguardava 170.000 immigrati un nuovo decreto che ne riguarda altre 350.000. Però sostanzialmente non si parla, non si discute, non si pensa agli immigrati che sono già qui, ai tanti che sono già qui senza permesso di soggiorno, non si discute delle regolarizzazioni. Poi ci torna anche in merito di una nostra proposta e anche uno dei motivi per cui stiamo qui. Questa illusione, queste bugie in realtà creano divisioni, creano anche confusione perché anche chi probabilmente potrà soffrire di diritti, d'altra parte io penso che è giusto anche pensare alla cittadinanza, però di diritti che non saranno mai eterni, di diritti che per un motivo o per un altro dall'oggi al domani possono essere tolti. Si gioca sulla vita e sull'esistenza di tanti fratelli e sorelle. Il volto dell'immigrazione sta cambiando in questo paese, ci stiamo un po' ragionando da tempo, per esempio le ultime statistiche, non voglio fare un elenco di statistiche, le ultime statistiche parlano di 500.000 studenti, sono tanti, tanti giovani bimbi e bimbe che stanno frequentando le scuole in questo paese, quindi già di una nuova generazione che c'è in questo paese. In qualche modo dobbiamo iniziare a ragionarci anche con associazioni di questo, che cosa sarà la vita per loro. Il volto di questo paese sta cambiando anche l'immigrazione perché la grande maggioranza degli immigrati in questo paese sono donne, generalmente non se ne parla spesso e nuove comunità si stanno affacciando in questo paese, soprattutto comunità dell'estero. Per questo anche come associazione tra il febbraio dobbiamo cambiare, dobbiamo iniziare a relazionarci a questo quadro in cambiamento, però pensiamo che per capire come cambiare dobbiamo consolidare alcuni aspetti importanti della nostra stessa vita, della nostra stessa esistenza come associazione, cioè consolidare quelle che sono le radici dell'associazione antirazzista del febbraio. Le radici sono fondamentalmente quelle di essere un'associazione di solidarietà interetnica dove il protagonismo dei fratelli e delle sorelle si possa sviluppare e costruire. Per questo, come dicevo prima, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di iniziare anche a riprendere delle lotte, noi siamo per la lotta, pensiamo che la lotta non sia sufficiente, pensiamo che la lotta non basta, però certe volte le lotte vanno fatte, con alcuni di voi ne abbiamo fatte, con i fratelli della Montagnola, con i fratelli di Via Guelfa, con i fratelli Eritrea e Somali due anni fa. Le lotte sono importanti perché nelle lotte ci si riconosce, ci si inizia anche a trovare una strada nuova di protagonismo possibile, però le lotte non bastano perché abbiamo bisogno anche di stare insieme, di stare insieme in modo differente. L'associazione 3 febbraio da anni garantisce una sede sempre aperta. Possiamo imparare a vivercela un po' meglio questa sede, a riempirla di iniziative culturali perché abbiamo bisogno di fare cultura, è fondamentale. Abbiamo bisogno però anche di darci un progetto da un po' di tempo che non è semplicemente un progetto di costruzione dell'associazione 3 febbraio, questo è un piano fondamentale per quale io esplicitamente chiedevo anche il vostro ingaggio e il vostro aiuto, però qualcosa va anche al di là dell'associazione, un progetto rispetto alla situazione dell'immigrazione. Da tempo avevamo iniziato a discutere di una bozza, di una piccola bozza di piattaforma relativa a un aspetto che non è l'unico, però un aspetto che ci sembra decisivo per il prossimo periodo rispetto alle pratiche di soggiorno. Ora, è chiaro anche per le cose che dicevo prima, il governo non sta dicendo niente, però noi possiamo iniziare a pretendere delle cose, possiamo iniziare a unirci su alcuni aspetti. Noi siamo per una sanatoria generalizzata, questo è stato uno degli aspetti sui quali abbiamo da sempre, fin dal 1996, lottato insieme, così come siamo per la pace. Pace e sanatoria è uno dei cartelli dell'associazione 3 febbraio più visti anche nell'immaginario proprio dell'associazione. Cartelli gialli, pace e sanatoria. Noi vogliamo una sanatoria, per cui vogliamo iniziare a discutere con tutti in questo momento molto difficile, dove tante associazioni si stanno spaccando, tante associazioni si stanno tirando anche indietro rispetto a questo, continuando a delegare al governo e purtroppo questo processo di delega viene viene anche dal basso, viene anche da parte di tanti fratelli che attendono un po' e quindi invece l'aspetto della sanatoria secondo me, della sanatoria per tutti e quindi iniziare a pensare come possiamo pretendere in qualche modo una sanatoria permanente è fondamentale. Così come i flussi programmati non ci vanno bene, pensiamo che le quote d'ingresso debbano essere abolite, debbano essere abolite le quote d'ingresso anche per motivi di studio. In questa bozza ovviamente abbiamo anche delle espulsioni dei CPT e notizia di... poche ore fa mi ha contattato il fratello dell'associazione 3 febbraio di Genova che si chiama Diawar penso, non so se l'accento è giusto, che qualche settimana fa è stato catturato dalla Guardia di Finanza in un'operazione massista di Genova, preso sotto casa sua, portato a casa sua e picchiato da almeno 20 finanzieri. Sulla base di questo episodio a Genova c'è stata una mobilitazione importante, sabato scorso c'è stata una manifestazione di 500 persone, pare perché l'avvocato che ha seguito questa cosa non è un avvocato, in realtà tanto dalla parte degli immigrati, perché per esempio si è dichiarato subito contro le mobilitazioni. Pare che ieri o l'altro ieri ci sia stato un processo e che questo fratello adesso è, bisogna capire bene, però pare sia a Bologna nel CPT. Noi abbiamo anche altre volte cercato, con altri fratelli che conoscevamo, di lavorare anche in qualche modo perché alcuni potessero trovare anche l'escamotage burocratico per uscire dal CPT. Ora, su questo episodio in particolare dobbiamo capire bene, però penso che sia giusto anche avere una dimensione nazionale dell'associazione 3 febbraio e noi che siamo qui a Bologna in qualche modo possiamo continuare quello che è stata la lotta dei fratelli a Genova, quindi vedremo di contattare e di capire meglio. Però i CPT rappresentano un filo rosso, una continuità tra quello che era ancora prima il vecchio governo, poi la legge Bossifini. Quindi sostanzialmente sul CPT nessuno si tira indietro, anche se in qualche modo avevano detto invece che andava ripensato, poi è diventato riformato e poi sostanzialmente non sta nascendo niente. Siamo per il pieno diritto d'asilo, siamo per una piena accoglienza, la possibilità di scegliere di vivere in questo paese per tutti i profughi, per tutti gli esuli politici, per tutti i rifugiati. Qualcuno di voi se lo ricorda? Yusuf sicuramente. Noi siamo riusciti due anni fa a far venire la commissione che a Roma segue queste questioni. Per la prima volta si è spostata da Roma, è venuta a Bologna e in due o tre giorni ha esaminato circa 200 pratiche che noi dopo una lunga e estenuante trattativa con la prefettura eravamo riusciti a portare. E tutti i fratelli sono riusciti ad ottenere un permesso di soggiorno allora. Però in realtà noi non siamo perché questo è un buon precedente, questa commissione può continuare a spostarsi. Di principio io sarei perché questa commissione venga abolita e sarei la bozza, in realtà è Antonio che l'aveva scritta, per un rilascio immediato del permesso di soggiorno sulla base di un'autocertificazione. Quindi anche iniziare a pensare a pratiche che non sono pratiche impossibili che però possono garantire una vita diversa. Quindi siamo anche per i diritti, non basta la lotta per i diritti ma siamo per i diritti. E in ultimo voglio un po' ritornare sull'aspetto principale con il quale iniziavo. Che cosa sta succedendo nella vita di tanti fratelli e sorelle? Io penso che dobbiamo iniziare a conoscerci diversamente, dobbiamo iniziare a frequentare anche posti come questi, vivere i momenti di associazione, vivere i momenti comuni, iniziare però a progettare per il futuro, iniziare a pensare a un futuro che sia veramente per una società aperta, libera e solidale. Non è uno slogan semplice, è proprio il concetto fondamentale sulla quale vogliamo anche ripensare a questa associazione. Io parto ringraziando l'associazione Prefebraio che ci ha invitato e poi perché anche sta esprimendo questa voglia di collaborazione. È una cosa che a noi interessa tantissimo. Noi siamo dei medici, la nostra è un'associazione medica. Noi ci occupiamo di disagi, di diversità in generale e operiamo utilizzando un programma clinico medico psicologico per tentare la reintegrazione o l'integrazione dei soggetti disagiati e facendo capire che la diversità, sia che sono diversità che nasce dal luogo di nascita oppure una diversità che nasce da una disabilità o da qualsiasi altro disagio che per lo più deriva dal sociale, perché noi viviamo comunque in un contesto sociale estremamente patogeno, quindi induttore di malattia. Non lo dico io, lo dicono eminenti sociologi. È stato valutato che il contesto sociale nel quale noi viviamo, se paragonato ad un individuo, è uno schizofrenico paranoide, questo per dire, e noi siamo immersi in un contesto sociale di questo tipo. Quindi noi come portiamo la nostra esperienza clinica, la nostra esperienza tecnica, oltre alla grande voglia di partecipare a questo processo di integrazione a favore e dei nativi e dei migranti, perché noi tendiamo a non fare nessuna distinzione tra chi arriva qua e chi è nato qua, perché non c'è nessuna distinzione, i diritti dovrebbero essere i medesimi, la condivisione dei doveri altrettanto, senso di responsabilità reciproca. È chiaro che se ci si sente nel diritto di, anche la responsabilità è più facile assumerla, quindi diventa tutto molto più semplice. Se si riescono a superare i pregiudizi da parte dei nativi, è chiaro che, e ce ne sono tanti, il sistema mediatico si adopera tantissimo per acuire i pregiudizi, è chiaro che diventa sempre più difficile per il migrante integrarsi e per il nativo accettare l'integrazione o comunque accettare il migrante. Comunque mi hai sollecitato alcune cose rispetto al fatto del processo migratorio. è una cosa talmente, sembra una cosa nuova, in realtà da sempre l'uomo e l'essere vivente ha migrato. Voglio dire, gli italiani sono un popolo di migranti, cioè voglio dire, noi siamo emigrati in tutto il mondo, abbiamo creato ricchezza in tutto il mondo, perché poi se ci pensiamo bene la migrazione porta solo ricchezza, se gestita bene. Quindi se c'è accoglienza, se c'è integrazione, se c'è collaborazione e compartecipazione. Quindi tutto sommato siamo anche degli imbecilli, fondamentalmente, qua in Italia. Almeno per quanto lo penso io insomma. Ecco, quindi è una cosa assolutamente naturale, non è una cosa nuova. Ecco, è diventata una cosa nuova perché a mio avviso il sistema politico globale, il sistema, come dire, politico nazionale ci sta marciando molto su questo fatto. Le motivazioni non le andiamo a cercare perché si dovrebbero tirare fuori discorsi che forse sono un po' troppo complicati, che forse non è la sede questa. Ecco, un'altra cosa importante secondo me, le basi sulle quali poggia il concetto di integrazione è sbagliato. Cioè nel senso che c'è questa divisione. Da una parte c'è il buonismo, ci sono tante associazioni, tanti gruppi, tanti individui che si porgono nei confronti dei migranti con questo atteggiamento caritatevole che altro non fa che, a mio avviso, mancare di rispetto all'individuo e invece, a mio avviso, ci si dovrebbe porgere alla pari in un'azione di scambio, la cultura è scambio, quindi è ricchezza. Se tu mi porti una fetta della tua cultura che io non conosco, io ti passo poi una fetta della mia, diventa molto più facile crescere insieme come individuo e come contesto sociale. Queste erano cose che mi avevano stimolato un attimino il suo discorso. Però parlando dell'argomento di nostra aspettanza, visto che noi siamo un'associazione medica, io volevo fissare un attimo l'argomento sul problema della sanità dei migranti perché non dico tanto quelli con il permesso di soggiorno, che comunque già anche lì ci sono dei problemi però mi riferirei a coloro che non hanno il permesso di soggiorno. Ecco, questo è un problema che è nato nel nostro direttivo, se ne parlava, insomma, quindi nasce da delle questioni assolutamente reali e un clandestino che subisca un trauma oppure che comunque sia ammali, ecco, parliamo di una malattia infettiva, no? Parliamo di una cosa che possa colpire tutta la collettività, non vai in ospedale o comunque fa fatica ad andare in ospedale. Perché? Perché se vai in ospedale e non hai documenti vieni immediatamente espulso. Quindi già questo di per sé è una cosa, a mio avviso, gravissima. Allora, io capisco che a livello istituzionale chi lavora in ospedale deve comunque comunicare perché c'è una legge che dice così. Però c'è anche un'altra cosa, un'altra legge che lega noi medici a quello che è il segreto professionale. Quindi noi siamo vincolati al segreto professionale. Io credo che nell'ambito di quella che spero sarà la nuova legge sull'indicazione, se ci sarà, comunque speriamo che oppure faremo in modo, almeno noi vorremmo cercare di indurre anche quest'altra postilla, di prestare un attimino attenzione a questo aspetto. Questo anche per una questione non soltanto individuale che già sarebbe, sarebbe già tanto, sarebbe già il 100% perché il diritto alla salute, il diritto alla cura, credo che comunque non abbia colore, non abbia religione, non abbia luogo di nascita. Ma anche per la collettività, perché se un clandestino ha una malattia epidemica, chiaramente se non viene curato può diventare un grosso problema per tutta la collettività. Allora, questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Come non dobbiamo dimenticare una cosa molto importante che è la scarsa conoscenza da parte della classe medica europea, italiana, ma comunque europea in particolare però in Italia, conoscenza della parassitologia. Allora, sappiamo benissimo tutti che nel sud del mondo si sviluppano e sono ancora attivi una serie di parassiti che c'erano anche qua da noi, che sono stati dei bellati, e che comunque da noi il clima è favorente comunque il debellamento di determinate patologie, mentre vi sono in alcune zone, io conosco il Centrafrica, che sono proprio dei bacini di cultura per determinati parassiti, per determinati virus. C'è una grandissima carenza perché addirittura a Bologna non ci sono, che sappia io, e li ho cercati, dei laboratori di parassitologia. Quindi noi dobbiamo mandare i nostri campioni a veterinaria oppure all'ospedale di Negrar dove c'è un centro che si occupa di medicina tropicale. Ecco, il medico di base magari non è in grado di riconoscere che quell'individuo è affetto da una malattia parassitologica. Il problema è che quella malattia poi può diventare una malattia della collettività. Quindi, voglio dire, siamo sempre del solito, non è solo un problema dei migranti, è un problema di tutti. Se cominciassimo a parlare e a ragionare sempre in funzione di tutti, credo che cambierebbe anche il concetto di integrazione. I disagi psicologici, anche questa è una cosa che sembra di serie B. In realtà non è così, insomma. Abbiamo prima visto l'intervista che ha rilasciato gentilmente Malik dopo la sua esperienza orribile, perché io mi vergogno di abitare in un paese, in una città dove comunque ci sono delle chiare espressioni di rassismo, perché insomma questo è rassismo. Anche se tanti politici dicono che Bologna è una città dove non c'è il rassismo. Allora, io mi permetto di dire che non è vero, insomma, perché Malik ce ne è testimone, insomma, voglio dire, ce l'ha raccontato, l'ha vissuto purtroppo. Ecco, è chiaro che poi, voglio dire, si scatenano tutta una serie di problematiche o si acquiscono tutta una serie di problematiche che di per sé già ci sono comunque, perché quando si va in un paese già si parte da una situazione difficilissima, perché voglio dire, noi dobbiamo anche pensare da dove si parte. Dunque, ci sono paesi in guerra, paesi sottoposti a dei regimi di dittature, a un dato di fatto, dittature che poi anche qua sarebbe un discorso lunghissimo da chi sono, a chi fanno comodo, da chi sono imposte, che tipo di dittature sono, perché anche qua sarebbe una cosa molto lunga. Io credo che ci sia sempre lo zampino dell'Occidente, però non voglio essere troppo di parte che dopo diventa una roba che non va più bene. Però, ecco, nel momento in cui ho perso il filo, lo stavo dicendo, aiutatevi, il disastro psicologico, nel momento in cui uno già arriva qua che proprio non è in forma smagliante, esce da una situazione difficilissima, vedi la guerra, vedi la fame, vedi tutte le robe che ci fanno vedere anche la televisione, che poi ce le esasperano e ce le mostrano anche da un certo punto di vista, come se l'Africa fosse solo quello, adesso parliamo dell'Africa, ma parliamo del sud del mondo, in realtà l'Africa non è solo quello, l'Africa è cultura, l'Africa è anche gioia, l'Africa è anche un bel modo di vivere, sì, ma voglio dire, non è soltanto fame, c'è anche la fame, bisognerebbe domandarsi perché c'è anche la fame in un continente che è il più ricco che ci sia sulla faccia della terra, forse c'è qualcuno che va a ubare, credo, comunque, vabbè, questo è ancora un altro discorso. Quindi già affronti un viaggio allucinante nelle mani di quei furbetti che io penso che comunque confluiscono nella criminalità organizzata, per cui sono viaggi nei quali tantissima gente poi perde la vita, insomma, voglio dire, cronaca di tutti i giorni, in più arrivi in un paese credendo o illudendoti di trovare qualcosa di buono, di migliorare un po' la qualità di vita, di trovare comunque un po' di accoglienza, di trovare una collocazione lavorativa e ti sbattono dentro una specie di galera, perché voglio dire, i CPT, altro non sono che delle galere, abbiamo visto i servizi bellissimi fatti da gatti, che è un giornalista, secondo me, di tutto rispetto, perché almeno sono un altro in prima linea, e quindi non credo che poi uno si predisponga così bene, si arrabbia anche un pochino, forse è un'arrabbia anche abbastanza comprensibile, usciti dai CPT magari si riesce ad entrare, si arriva nelle varie città e come ci si trova? come ci si dice, perché hai un velo in testa viene additato, e perché il velo è una roba che, sei un terrorista, sono tutti terroristi coloro che portano il velo, se sei di colore nero, perché c'hai un po' più di melanina, perché non è mica questa, voglio dire, il sangue è sempre rosso, non è che cambi, è semplicemente che c'è un po' più di melanina, poi detto tra noi la pelle è anche più bella, voglio dire, noi andiamo al mare per diventare neri, per dire, magari diventassimo così, però voglio dire, ecco, ti trovi comunque additato, oppure come diceva Malik, se è sporco negro, vai a casa tua, perché vieni qua, ci viene a rubare i posti di lavoro, ci viene a rubare le nostre donne, e tutte quelle robe lì. Quindi insomma, io credo che anche il disagio psicologico, e non solo in riferimento ai migranti, ma anche e soprattutto in riferimento ai nativi, sarebbe da tenere in altissima considerazione. Noi adesso abbiamo, e finisco, abbiamo presentato un progetto al tavolo dell'immigrazione del centro servizio di volontariato, chiamato Salute e Informazione, perché noi insieme a, come Nadir, sessione Nadir Informa, collaboriamo con Arcoiris, questo progetto autofinanziato, per fare informazione, perché per noi l'informazione non manipolata, l'informazione vera è salutare, perché comunque induce alla partecipazione. Ecco, allora noi abbiamo tentato di proporre, non senza qualche difficoltà, comunque abbiamo tentato di proporre questo progetto nel quale si vorrebbe tentare di avviare dei laboratori esperienziali, destinati non solo ai migranti, ma ai migranti, ai nativi, a tutti coloro che hanno interesse a crescere come individui e come contesto sociale, come collettività, perché nel momento in cui, faccio l'esempio, si insegna la lingua italiana, che è giusto insegnare la lingua italiana, perché poi diventa più facile comunicare, diventa più facile fare un sacco di cose quando si conosce bene la lingua. Anche noi quando andiamo in Africa, se non conosciamo bene il francese o l'inglese, magari qualche parola di dialetto, insomma ci troviamo peggio, no? Quindi quello va bene, però attenzione, cioè non dobbiamo perdere nemmeno o sottostimare facendo i maestrini, cioè coloro che sanno, e insegniamo ai poveri baluba che vengono, come ci sono certi portisonaggi politici che li chiamano in questa maniera, è bene, no? Sottolineare questo linguaggio, che è un linguaggio assolutamente deplorevole, soprattutto per dei politici, che insomma dovrebbero rappresentare la popolazione in una democrazia, ma così non è. Quindi dovremmo cercare invece di puntare sullo scambio. Oltretutto, se voi conoscete sicuramente meglio di me le lingue native, io ho avuto la fortuna di conoscere un pochino il Chirundi, che è la lingua che si parla in Burundi e in Ruanda, sono lingue estremamente ricche, ricche perché sono lingue metaforiche, sono lingue musicali, sono lingue che non vanno perse. E quindi il fatto che si possano fare dei laboratori esperienziali nei quali, sì, si passa l'italiano, perché qua siamo in Italia, si parla comunemente di italiano, però ci fosse la possibilità anche di passare quelle che sono le lingue, l'arabo e via discorrendo, insomma, no? Tutte queste lingue che noi non conosciamo. E tutta la cultura che si portano dietro, perché una lingua è cultura, le tradizioni, i costumi, gli usi, per poi paragonarli, metterli sullo stesso livello di quelli che sono gli usi e i costumi italiani e per arrivare poi a un punto d'incontro. Quindi io i migranti li metterei nelle fasi progettuali di qualsiasi cosa che si tenti di fare per arrivare a quel punto che è l'integrazione. partendo dal lavoriamo insieme, quindi non il migrante usufruitore del servizio, io questo mi rifiuto assolutamente di accettarlo, ma il migrante nella fase progettuale, perché chi meglio di chi ha vissuto l'esperienza, di chi sta vivendo l'esperienza in prima persona, può dare dei suggerimenti, può dare un aiuto per poter poi arrivare alla soluzione, ad avvicinarci alla soluzione del problema. Insomma, questo è, va bene? Sì, 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 5 minuti ancora se voglio. 5 minuti ancora se voglio. Sì, vi dico un'altra cosa, la base del peacekeeping. Parlavamo delle truppe, eccetera, le truppe armate, chiaramente noi non siamo affatto d'accordo con nessun tipo di guerra, nessun tipo di violenza, noi come organizzazione. Sull'onda anche quello che diceva Gino Strada prima nell'intervista che ci ha rilasciato qualche tempo fa, no? Io, per esempio, credevo, speravo, perché le illusioni di questo governo sono veramente galattiche, speravo che in effetti ci fosse un ritiro immediato di tutte le truppe, tutte, le armi non servono a niente, e che al posto delle truppe invece partissero le organizzazioni umanitarie. Quella è l'azione di peacekeeping. L'azione di peacekeeping fatta con i carri armati mi sembra una presa in giro insomma abbastanza importante. Io faccio fatica ad accettarla, sinceramente. Finito. direi iniziamo subito il dibattito. Buonasera a tutti, voglio ringraziarvi tutti che sono presenti oggi dalla sala. Mi chiamo Papo Malik Ereghei, vengo dal Senegal. Sono contento di essere qui come ambasciatore africano, perché il mondo è grande, siamo cinque, sei continenti, un continenti ha qualcosa per scambiare per l'altro. Siamo fieri di stare africani, di morire africani. Io, prima cosa, voglio ringraziare amici nostri, amici di cuore, perché l'associazione di 3 febbraio che hanno dato questa possibilità di stare qui, di discutere e mettere punti insieme. ringraziare ancora Arco, Iris, che mi hanno fatto una bellissima intervista, e ringraziare ancora Nadir, che mi hanno chiesto anche quello che avevo bisogno di quello che mi è capitato, che vi lo racconto fra un po'. Prima di partire volevo ringraziare tutti che erano sempre vicini a noi quando abbiamo questi problemi. Non è facile stare fuori casa affrontare difficoltà, noi siamo qui, però stiamo vivendo delle discriminazioni razziali che dobbiamo trovare modo da difendersi adesso, se no le cose vanno avanti, finché dopo non sappiamo più gestirlo. Non vogliamo arrivare a quel punto lì. Trovare modo di difendersi insieme, trovare nuovi sistemi, nuovi sistemi, cosa vuoi dire? Deve unirsi insieme, l'unione fa la forza, se noi siamo uniti non abbiamo la forza di difendersi, di lottare contro chi è di fronte a noi. per cui se non troviamo modo di riunirsi insieme non possiamo andare in nessuna parte. Questi sono i nuovi sistemi che dobbiamo trovare noi per lottare contro queste discriminazioni razziali che stiamo vivendo tutti i giorni. Io mi è capitato una cosa il sabato 28 di ottobre. Era in macchina che dovevo passare tutte queste strade per arrivare dove c'è il laboratorio a Pilastro. Arrivato via Filippo Beraldo mi sono rimasto fermo sulla semafora come tutte le altre. Lì c'è uno dietro di me che aveva una macchina marea grigio Fiat Marea sceso dalla sua camminando verso di me. Io credevo che mi chiedevano informazioni delle strade dove vai no invece era venuto vicino gentilmente mi sono aperto la finestrina per sentire. Allora allora e questo è il tuo modo di fare? Ho detto quale modo sono qui normale no questo non è io ti ho tamponato ti ho stracciato la macchina cosa ti hai fatto? Niente non mi hai fatto niente però questo tuo modo di guidare non mi è piaciuto imbecille di merda pezzi di merda negro di merda perché non vai a casa tua è cominciato da ripetere queste parole davanti tutti eh poi ho detto quello lì è matto stai scherzando no sei imbecille di merda pezzi di merda negro di merda perché non vai a casa tua io ho messo dentro di me quello lì è fuori dopo ho trovato modo di chiudere la finestrina bloccare la porta della macchina eravamo sulle strade sembra di raccontarvi un film nessuno andava avanti io ero il primo film lui era dietro eravamo lì adesso io gli ho detto tu vai via lasciami stare no non sai tu chi mi manda via adesso ti faccio vedere io ti ammazzo subito è andato a corso dalla sua macchina ha preso un stampello è venuto vicino a me cominciare a dare botte pam 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 mamma mia pam pam alla fine non ce lo facevo più perché mi volevo proprio spaccato il vetro pam si è rotto mi sono girato la testa e cominciare a darmi sul collo qui sulla mano appena esce dalla macchina ma l'hai dato sulla gamba destra prima di uscire ho detto qui c'è modo da fare sul serio quello lì se lo lascio fare mi marcio adesso comincio a difendermi ho preso il stampello l'ho spostato dietro lui è andato due passi io sono sceso da lì appena sceso mettendo due piedi ma l'hai dato qui di nuovo mi le volevo dare sulla testa ho preso le stampelle l'ho buttato per terra sono andato dosso di lui trac per fortuna noi senegalesi abbiamo una disciplina lotta libera che tutti i senegalesi sanno lottare senza dare botte perché come qui calcio in Italia noi in Senegal la lotta è il nostro sport principale per cui da piccolo cominciamo noi ad imparare queste lotte gli ho trovato modo di buttarle per terra quando lui è caduto è bloccato proprio poteva darlo e lui ha detto qui no tu hai provocato a me tutti i costi per avere uno in scambio no ti insegno la vita qui non ti muove più c'è possibilità anche di darti dei botti di ammassarti come tu hai voluto fare a me se tu hai avuto queste possibilità me le farei sul serio però non ti tocca io ti insegna la vita e lì tutti che erano fermi sulle strade hanno visto quello che è caduto hanno chiamato 112 112 è arrivato ma non c'è su cos'è e com'è ha raccontato l'istoria come ve l'ha raccontato c'erano tre testimoni due donne e un uomo che hanno confirmato quello che ha detto hanno detto anche che i repini e i ricini non sono stati bravi come ho fatto io potevo ammassarlo lui o lui poteva anche ammassare me ma l'hai detto ti mazzo e questa è la vita che viviamo sembra di stare sulla giungola qui siamo in Italia siamo in Europa stiamo vivendo queste situazioni siamo nel 2006 l'Italia Bologna fa parte di una città culturale dell'Europa viviamo questa realtà le persone che ti mette le mani d'osso non ti rispettano se non avevo sangue freddo dovevo stare calma potevo ammassarlo oggi io ero in galera dicono male che scemo ha messo mano d'osso uno perché è stato in galera io ringrazio Gio di avere sangue freddo quel giorno lì dovevo risponderlo se era qualcuno un altro poteva rispondere ammassarlo non ammassare lui e poi l'ultima cosa senza essere troppo pesante voglio che dobbiamo stare insieme stare insieme non solo con le parole con i fatti combaciare fatti e parole basta parole senza i fatti basta fatti senza i parole troviamo modo di lottare insieme riunire insieme di non fare forza e combaciare fatti e parole e sapere chi parlare quando hai problemi e sapere gestire i problemi non rispondere perché c'è un proverb senegalese che dice c'è un asino che ti pesta in piedi se tu le rispondi sei un asino non voleva stare asino come lui ringrazio tutti che sono presenti e sono qui mi chiamo Ana buonasera a tutti non approfitto di questa opportunità per raccontarvi che a proposito di un argomento di cui si era parlato anche stasera ovvero quelli che sono gli studenti immigrati noi ci siamo occupati ovvero io e altri miei amici io mi chiamo Ana vengo dalla Romania e studio a Bologna prima ho studiato a Firenze e abbiamo scoperto che abbiamo scoperto che le problematiche che devono affrontare gli studenti immigrati condizione alla quale si sa che tutti anche i bambini immigrati nati qui arriveranno ovvero all'università purtroppo non mi posso parlare solo dell'università e del liceo che ho fatto qui sono altrettanto gravi quanto tutte le altre forme di discriminazione perché fondamentalmente non esiste un diritto allo studio le persone che nascono qui vogliono andare a scuola poi all'università e sia quelle che vengono apposta per studiare se non hanno dei soldi praticamente se non vengono da una famigliaggiata non si possono permettere di studiare per il semplice motivo che all'interno di tutte le leggi sull'immigrazione dei vostri figli esiste questa limitazione del non poter lavorare se uno studia ovviamente se fai liceo è un po' impossibile che uno lavori e anche se fai l'università si può lavorare solo part time adesso io sfido chiunque a potersi mantenere lavorando part time del resto conosciamo tantissimi amici appunto stranieri che si vogliono mantenere e per questo arrivano a lavorare ovviamente illegalmente cioè in nero non esiste nessun'altra possibilità allora molto modestamente ecco molto umilmente noi abbiamo creato questo collettivo che si chiama collettivo studenti migranti a scienze politiche che studia le leggi cerca di occuparsi di queste problematiche anche di ogni caso in particolare che ha prodotto dei video vontaggi che fa delle assemblee per informazione che cerca di fare una guida multilingue per gli studenti che arrivano qui cercando di fare il più possibile sono coloro che ne fanno parte sono anche tantissimi italiani sono molto interessati a questi argomenti e ovviamente anche all'immigrazione quindi partecipiamo anche a tutte le manifestazioni a tutte le lotte che a Bologna purtroppo si devono fare perché insomma l'ambiente è abbastanza ostile agli stranieri è poco accogliente e niente vi volevo solo informare che esiste questo collettivo quindi appunto le informazioni magari le potete prendere da lì perché ho portato un po' di materiale e niente grazie mille per questa opportunità applausi a famous Giacomo Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti.